Non ho mai visto una cosa così? Vedi che non sono piccole? No. Quella dell'anno scorso era molto più piccola. Anche per fare l'amore è un modo un po' strano, secondo me. Dovrebbero avere un minimo di fermo, non credi? No. Ma come fai a torsigliarsi in quel modo? L'hai fotografata? Sto facendo un filmino. Ma che strano casino. Ma non sembra che abbia intenzione di mordersi. Ma in che colore sono? Eh, non si vogliono bene, vabbè. Sì, sì, sì. Se non mi fanno una rotta. Una è strana, una è nera, l'altra no. Ma come si vorrebbero... Cioè, qual è il loro intento? Non ho capito. Guarda come sono veloci. Beh, ciao. Grazie.